Ciao Mauri, un abbraccio dalla Sicilia Io sono bello, sono stupendo, sono palestrato, sono praticamente perfetto Potresti dirmi com'è fare ad avere un po' di umiltà? Ho paura Caro Michele, per imparare ad avere un po' di umiltà e renderti conto di non essere probabilmente così perfetto come sei basta guardare i miei video Ti ridimensioni un attimo, ti rendi conto di come stanno le cose Non è cattiveria, è un consiglio amichevole E dici però, in effetti, non è il caso